I tuoi quadranti, testimoni della nostra storia, segnano l'ora della vittoria. Recitava così lo striscione dei tifosi dell'Avellino nella storica finale play-off contro il Napoli nel 2005. Da oggi quei quadranti si rifanno il look per liberare la torre dell'orologio dal degrado e dall'incuria. Da questa mattina alle 8 operai specializzati sono al lavoro sotto la supervisione dell'assessore Costantino Preziosi. Nessun ritardo ci tiene a precisare, l'intervento era stato già programmato a dicembre e semplicemente aspettavamo le belle giornate e temperature più ummiti per permettere l'uso di un particolare mastice. Superata la fase invernale, oggi e domani dovremo completare con l'attività di dipintura dei quadranti, un po' di pulizia delle erbacce che stanno nei vari anelli della torre e soprattutto la sistemazione dei proiettori di illuminazione dei tre livelli della torre perché da un bel po' sono spenti e quindi è un minimo intervento, però almeno diamo un po' di dignità a questa torre dell'orologio che comunque poi è un po' il simbolo della città. Un intervento che rientra in un progetto più ampio, quello della riqualificazione del centro storico a partire naturalmente da Piazza Duomo. Nel giro di un mesetto apriremo tutte le strade, quindi le varie rampe, le vie del seminario, Piazza Duomo e quindi già c'è questo cantiere della Collina della Terra che è partito un bel po' di tempo fa, almeno fra un mesetto terminerà per quanto riguarda la parte della cinematica e quindi delle strade.